Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vergine Purissima, concepita senza peccato, tutta bella e senza macchia dal primo istante, ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata Concezione. Il tuo Divino Figlio mi ha insegnato, attraverso la sua stima, rispetto e sottomissione a te, quali onori e omaggi io ti dovrei prestare. Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo ricorro a te attraverso questa novena. Sei la madre di misericordia a cui presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi, poiché, dopo Gesù, sei tutta la mia speranza. Con la tua intercessione materna, Madonna piena di bontà e potere presso il Signore, ti supplico di farmi ottenere la grazia che tanto desidero. Se ciò che ti chiedo non è per la gloria di Dio ed il bene della mia anima, fammi avere quello che sia più conforme a entrambi. Amen. Preghiamo. Oh Immacolata Concezione, Madre mia, nel vuoto e molte volte nell'oscurità della mia vita, nell'oscurità del mondo moderno nel quale il male è potente, ti supplico, portaci speranza e restaura la nostra fiducia. Intercedi per me presso tuo Figlio misericordioso, chiedendogli il suo perdono per le mie colpe e per quelle di tutta l'umanità. Sì il mio soccorso, Immacolata Concezione, e ottienimi dal nostro Padre Celeste, per i meriti di tuo Figlio, la grazia che tanto desidero. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Dio, che con l'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato al tuo Figlio una degna dimora, e in previsione della morte di Lui, l'hai preservata da ogni immacchia, concedi anche a noi, per sua intercessione, di giungere fino a te in purezza di spirito. Noi te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.